Una fusione necessaria, quella tra Aset Holding e Aset Spa, per migliorare maggiormente i servizi e i benefici al cittadino, primo fra tutti la riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti che attualmente avviene in Romagna e che se svolta nel nostro territorio grazie ad un gestore anaerobico, porterebbe una notevole diminuzione anche sull'imposta pagata dai cittadini. Il motivo principale era quello di liberare nuove energie e di, in pratica, economicizzare determinati servizi e rapporti. Penso che sia stata scelta la strada giusta perché il far confluire le energie di due realtà già importanti in un'unica realtà penso che abbia dato un valore aggiunto anche a tutto quello che ruota intorno alla Valle del Metauro e tutti i comuni che ne fanno parte. Un'azienda definita gioiello dal sindaco Seri che, anche grazie alla partecipazione consapevole e sensibilità in materia dei cittadini fanesi, ha portato Fano al primo posto tra le città con numero di abitanti compreso fra 50 e 100 mila, con il 75% di raccolta differenziata nel territorio comunale. Nuovo direttivo e ridistribuzione della proprietà, dunque, che rimane interamente pubblica e che vede il 70% in mano alla città della fortuna e il restante 30% ai comuni restanti. Un nuovo piano industriale che terrà conto anche dell'economia organizzativa e gestionale del personale, con l'unione di alcuni uffici e garantendo il ciclo dei posti di lavoro, in un'ottica orientata all'ottimizzazione delle risorse. Secondo me queste cose vengono fatte solo discursivamente quando c'è un'educazione ambientale elevata, quindi quando le persone per prima si rendono conto di quello che possono fare e che devono fare per migliorare l'ambiente, la propria salute, la salute dei propri figli, il futuro dei propri figli. Sicuramente ci deve essere un connubio virtuoso tra chi gestisce determinati servizi e fa in modo che questo modo di operare sia anche economicamente conveniente a questo punto e che sia facilitato comunque il cittadino nel poter porre in atto questi comportamenti virtuosi. Quando si uniscono queste due cose poi vengono fuori questi risultati, quindi penso che il merito sia dei cittadini fanisi come di quelli degli altri comuni. Mi auguro e spero che queste percentuali aumentino, anche se sono percentuali estremamente importanti e quindi anche difficili da migliorare. E da canto mio posso dire, dal Consiglio di amministrazione e tutto, che faremo di tutto per chi la coscienza ecologica e ambientale dei cittadini fanisi sia agevolata da questo punto di vista con i servizi che cercheremo di migliorare e con anche delle nuove e innovative proposte che al momento proporremo. Grazie.